Bentornati sul canale giornalismo del cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Amici 21, allievi senza mutande ripresi dalle telecamere, il video sconvolgente finisce sul web e diventa letteralmente virale Tutti i dettagli al riguardo.Allievi senza mutande.Talent Show che sforna concorrenti idolatrati dal grande pubblico anno dopo anno, Amici di Maria De Filippi è uno dei programmi più seguiti ed amati dai telespettatori italiani Contiguamente chiacchierata, la trasmissione della moglie di Maurizio Costanzo è il principale obiettivo del cicaleccio del popolo del web E, senz'altro, ciò che sta accadendo nelle ultime ore, gli utenti dei social media sono rimasti assolutamente scioccati a seguito di aver preso visione di una clip che sta facendo impazzire tutti gli ammiratori del programma di Canale 5 Che cosa sta succedendo? Amici 21, video hot virale sul web.Come ben noto, il talent show di Queen Mary De Filippi è amatissimo in tutta Italia e ciò che si consuma tra le mura dell'accademia più famosa del nostro paese è affar del popolo, che segue i concorrenti con tanto entusiasmo Senza dubbio, la cosa che sta maggiormente sorprendendo è la diffusione di una clip del tutto inaspettata I fruitori delle reti sociali si stanno domandando come sia possibile che un contenuto del genere sia stato propagato Secondo loro, si tratta di un filmato assolutamente hot. Ma perché? Amici Log.Amici 2022, allievi senza mutande ripresi dalle telecamere Non è di certo la prima volta che la trasmissione del sabato sera abbia un risvolto hot Difatti, tutti i fan di Amici ricordano quando alcuni ex concorrenti dell'edizione 2021 avessero dichiarato che all'interno della casetta vi erano delle stanze segrete dove, forse, le coppiette potevano avere intimità Ma non è questo il caso. In effetti, qui, secondo l'occhio vigile e attento del popolo del web, alcuni allievi sarebbero stati ripresi senza mutande dalle telecamere, spiazzando la maggior parte degli ammiratori del programma della De Filippi Ma perché queste inquadrature così hard? Maria De Filippi sbalordita Intanto, da ciò che si apprende, in un momento di pausa dalle lezioni di danza, i ballerini ne hanno approfittato per dilettarsi con il loro passatempo preferito Fare uno scherzo al danzatore di latino Nunzio Stan Campiano La burla nei confronti dell'allievo di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro si è basata su una fantasiosa ed inesistente gara pensata dalla temutissima Alessandra Celentano che, come tutti sanno, non vede di buon occhio il ragazzo siciliano A quel punto, mentre i ragazzi si divertivano a vedere la reazione del loro amico, alcuni di loro si sono cambiati sotto le telecamere, esibendo dei particolarissimi slip color carne che, a primo impatto, hanno fatto sembrare senza veli gli amici di Maria Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao